Quasi tutti gli Stati membri, praticamente senza eccezione, hanno tirato l'attenzione collettiva sui grossi costi legati alle politiche che gli Stati devono mettere a punto per affrontare la crisi dei rifugiati. E lì capisco. È per questo che in data 15 ottobre la Commissione, che ho l'onore di presiedere, ha comunicato agli Stati membri che quando si tratta di qualificare le spese che vengono destinate alla crisi dei rifugiati, per quanto riguarda l'interpretazione del patto di stabilità, noi, le regole riviste dell'applicazione del patto di stabilità, noi applicheremo una flessibilità. Quindi come è previsto dalla Commissione quando ha considerato la possibilità di applicare una certa flessibilità. Siamo di fronte a un problema di gravità eccezionale e allora posso dirlo, posso dirlo, posso proclamarlo in lungo, in largo in Europa, il patto è il patto. Non è il patto nel senso vecchio del termine. Quando si tratta di mettere tutti i nostri sforzi al servizio di una politica comune concordata, quindi paese per paese, vedremo in che misura si deve tener conto dei costi che comporta la politica per i rifugiati. Quindi il patto verrà applicato così come emendato dalla Commissione.